Ciao a tutti, io sono Andrea Moraghioli, coordinatore del team indipendente Working House. Insieme al mio team abbiamo deciso di sviluppare un progetto che si chiama Glowilas, addio chi li troppo. Abbiamo creato sia un sito web, per far conoscere l'idea e naturalmente le varie funzionalità che ci sono, sia un'applicazione per gli smartphone, dove voi naturalmente potrete usufruire di tutte quelle funzionalità che vi verranno messe a disposizione. Il progetto nasce nel 2016, con l'intento di velocizzare quelle che sono alcune funzionalità che noi andiamo ad azionare durante un allenamento, il tutto mediante l'uso di un tag NFC. Successivamente, per incomprensioni, il gruppo si è sciolto e se ne è creato un altro che pian piano ha portato avanti il progetto facendolo progredire. Glowilas nasce con lo scopo di prevenire uno dei problemi sociali che colpisce la società, ovvero l'obesità. Tutto questo grazie a dei piani di allenamento e regimi alimentari che di base vengono offerti dall'applicazione, ma che possono essere personalizzati grazie al nostro servizio di comunicazione, in cui praticamente l'utente potrà entrare in contatto con un personal trainer affiliato al nostro progetto e quindi personalizzarli. Il gruppo è composto da tutti i studenti del quinto anno degli smarconi di Civitavecchia, indirizzo informatico, a eccezione del grafico che invece frequenterà l'Università di Lingue di Viterbo. Abbiamo lavorato su un ambito che conosciamo, ma inizialmente ci sono stati non pochi problemi, dovuti al fatto che comunque veniva richiesta una conoscenza maggiore rispetto a quella che avevamo, ma dopo un primo periodo di studio siamo riusciti ad avanzare molto velocemente. Abbiamo voluto partecipare alla Global Junior Challenge per metterci in discussione, per far conoscere la nostra idea e quindi poterci anche confrontare con gli altri progetti. Così facendo possiamo naturalmente capire dove è possibile migliorare, come ampliare la nostra applicazione e come risolvere eventuali problemi. Con questo auguro a tutti una buona Global!